E' appena andata agli archivi la Domenica Nera delle Abruzzesi di Serie D, un cappotto che fa male alle cinque rappresentanti della nostra regione con altrettante sconfitte, alcune delle quali hanno conseguenze sulla classifica. Per Amiternina e Giulianova la rincorsa alla salvezza subisce un contraccolpo compromettente. I giallorossi di Michele Gelsi, dopo l'ennesima settimana piena di difficoltà, offrono una prestazione molto positiva, d'orgoglio, ma contro la capolista San Benedettese è mancata quella punta di buona sorte che sarebbe servita per evitare la sconfitta. Invece decide l'eurogold di Titone in apertura, la Samba è sottotono e il Giulianova nel finale fallisce l'1-1. Ora il terzo ultimo posto si allontana a sette punti perché ha scoppito, la Amiternina perde a domicilio lo sconto diretto con l'Olimpio agnonese. Illude Terriaca nel primo tempo, nella ripresa i molisani ribaltano il risultato con la doppietta di Santoro e con Marolda. Inutile il secondo centro di Terriaca per una Amiternina che recrimina aspramente per la direzione arbitrale in occasione del secondo e terzo gol dell'Agnonese. Ora i play-out sono a cinque punti e alla ripresa ci sarà la trasferta in casa della capolista Samb. Funziona bene per i molisani la cura di Pino Di Meo che ora punta alla salvezza diretta. Pesante la sconfitta anche per il San Nicolò che, anche a causa di alcune assenze, oppone una flebile resistenza al Fano. Finisce con un tris sul groppone dei ragazzi di Massimo Epifani che anzi ringrazia il portiere Calore che evita un passivo più pesante. In gol Sivilla, Gucci e Ambrosini. Il San Nicolò perde il quinto posto ed esce dalla zona play-off a vantaggio della Re Canatese di Mecomonaco. Hanno meno ripercussioni in classifica i rovesci di Chieti-Avezzano. Sull'undici teatino si abbatte ancora il ciclone dell'ex Esposito che dopo la doppietta dell'andata cala la tripletta con due rigori e un gol da angolo. Pesano anche gli errori sotto porta dei Neroverdi. Chance salvezza immutate per l'Avezzano che a Pesaro sciupa l'iniziale vantaggio di Bisegna e si fa travolgere da quattro reti dei marchigiani agevolati da tanti sbaglioni difensivi. Ora domenica di riposo in campo, si torna domenica 20 in programma tra le altre partite il derby salvezza del Dei Marsi tra Giulianova e Avezzano.